Sulla proposta di regolamento packaging, il Parlamento europeo ha fatto prevalere il buonsenso e soprattutto un beneficio da un punto di vista economico, certamente per la nostra filiera, del consumatore che spreca meno, ma soprattutto ambientale, visto che il passaggio dal riciclo al riuso avrebbe comportato un aumento del 180% delle emissioni di CO2 e del 240% del consumo di acqua. Oggi trovo abbastanza irresponsabile la posizione della Presidenza spagnola che pur di portare a casa qualcosa in una Presidenza assolutamente vuota, voglia oggi forzare ignorando la volontà popolare che il Parlamento europeo ha espresso.